Un lavoro importante nel mille proroghe è quello portato avanti dall'onorevole del PD Stefania Pezzopane relativo al terremoto 2016-2017, che è un tema fragile perché la ricostruzione del centro Italia è ancora dietro per l'esponente del PD, nonostante il cambio di passo ultimamente. In particolare si è parlato dell'Alto Aterno e di un pezzo della provincia di Teramo. Si comincia a registrare, ha detto la Pezzopane, un'inversione di marcia, anche sulla base dei dati diffusi dalla struttura di missione nel 2020. Nonostante la pandemia, c'è stato il 62% in più di cittadini che fanno richiesta per la ricostruzione. Anche questo era un problema. Per la Pezzopane il lavoro del commissario Legnini è stato importante, conseguenti alle normative che si approvano. La Pezzopane ha presentato gli emendamenti che sono di due tipi. Uno riguarda la proroga delle esenzioni per le bollette di luce, gas e acqua su immobili inagibili. È stata poi inserita una norma che impone l'impignorabilità dei soldi della ricostruzione in caso di crisi o fallimento. Anche con il Mille Proroghe abbiamo voluto dare risposte e input nuovi alle aree terremotate del centro Italia perché questa difficilissima ricostruzione possa avere una consistente accelerata. I numeri ci dicono che le cose che stiamo facendo stanno finalmente producendo risultati e quindi non mi sono lasciata perdere l'occasione del Mille Proroghe per fare numerose iniziative. Inserita una norma che alza la soglia degli affidamenti diretti sino a 150.000 euro, un'altra invece è per la tipicità dei comuni dell'Aquilano, da Campo Tosto in giù, che sono nel doppio cratere, come del resto Montorio nel Terramano. Si stanziano 180 milioni esclusivamente per il doppio cratere, inserendo una sorta di contabilità speciale che favorisce la ricostruzione. In questo caso, attingendone entrambi i fondi, si creava un blocco delle pratiche. Ora invece si crea un fondo a parte con una contabilità speciale. C'è stata anche la proroga per l'Isee. Oltre a tutte queste norme abbiamo inserito i fondi per i bilanci, per le minori entrate, le maggiori spese ed altro ancora. Tutto questo serve a dare risposte ai cittadini che stanno soffrendo la doppia pandemia e naturalmente ad accelerare le procedure.